Ingegnere Cantamessa, la legge che tutela le ferrovie storiche parte dalla Sicilia? Lo sanno in pochi, ma una legge nazionale che consegna integre alle generazioni future linee ferroviarie meravigliose, dalla Valle dei Templi di Agrigento alle Alpi, alla Maiella d'Italia, passando per le Crete Senesi, è stata pensata ad Agrigento. È stata pensata nel mondo del volontariato, degli appassionati di treni, degli appassionati di quelle cose che coniugano il fattore umano con la bellezza della natura, con l'avanzamento tecnologico, come una ferrovia storica. E quindi da Agrigento noi ripartiamo oggi. Le ferrovie dello Stato sono impegnate in Sicilia su fronti ben più ampi di quello turistico. Faccio un esempio, la riapertura dell'Anello Palermitano, che consentirà di raggiungere l'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi direttamente dal centro della città. È una ferrovia di tipo convenzionale, cioè su quella ferrovia potranno viaggiare tutti i tipi di treni. Io immagino un treno turistico, ovviamente a trazione elettrica, che dall'aeroporto Falcone-Borsellino possa scaricare turisti con i loro ingombranti valigioni, fatti di opportunità economiche per il nostro territorio, a Tempio Vulcano e a Porto Empeducle. Questa è l'idea di un turismo davvero sostenibile. La cosa più bella, lo dico da nordico con origine svizzera, è pensare che i nostri fratelli del sud usano oggi il treno che i loro nonni hanno utilizzato per emigrare, lo utilizzano per fare impresa nel loro territorio. Questa io credo sia la soddisfazione più bella per coloro che, come noi ferrovieri, amano la cosa pubblica.